numero 5 questo baule in legno portagiochi può essere utilizzato anche come panca il design della cerniera di sicurezza ne aumenta la stabilità per evitare che il coperchio si chiuda improvvisamente il baule offre uno spazio tra il coperchio e il baule per evitare che il bambino possa schiacciarsi le dita durante l'apertura inoltre ci sono maniglie su entrambi i lati per facilitarne il trasporto realizzato con materiali solidi e resistenti il contenitore ha una capacità di carico di 30 kg offre un interno spazioso per riporre giochi libri e vestiti trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 questo baule per bambini è montato su quattro piedi per una facile pulizia misura 58 centimetri di larghezza 45 di altezza e 28 di profondità realizzato in legno mdf con rifinitura in lacca e piedi in legno di faggio disponibile nel colore bianco ottimo rapporto qualità prezzo concepito per i bambini questo baule è molto comodo e permette loro di sistemarvi i giocattoli o altri accessori in maniera autonoma perfetto per completare l'arredamento di una cameretta apportando un di allegria in più idea regalo per ogni occasione in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 3 bellissimo baule in legno porta giochi ideale per la camera dei bambini offre grande spazio per contenere libri vestiti e giochi anche i più ingombranti misura 60 centimetri di lunghezza 39 di larghezza e 36 e mezzo di profondità il baule oltre a contenere giocattoli è anche una comoda panca ha un peso totale di 8 kg ed è realizzato in tre colori pastello bianco rosa e grigio il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 2 ottimo baule per custodire giochi vestiti libri e tanto altro disponibile nel colore bianco il baule è realizzato in legno di pino può essere arricchito con adesivi dei personaggi preferiti dai bambini il contenitore con coperchio funge anche da panca ha una capacità di 65 litri e supporta un peso di ben 50 kg perfetto nella camera da letto di qualsiasi bambino misura 60 centimetri di lunghezza 40 di larghezza e 38 di altezza idea regalo per ogni occasione se ti interessa questo articolo trovi i link in descrizione numero 1 baule spazioso e molto funzionale per contenere i giochi dei bambini dotato di ruote con asse sterzante per un facile trasporto misura 71 centimetri di larghezza 40 di profondità e 46 di altezza ottimo articolo realizzato in legno disponibile con diversi disegni a un peso di 14 centimetri semplice da montare con le chiare istruzioni contenute nella confezione si tratta di un prodotto certificato il contenitore può essere usato anche come panca per la seduta di due bambini o di un adulto il coperchio dispone di un meccanismo che ne blocca la caduta libera evitando pizzicamenti accidentali delle dita in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto